Abbiamo l'onore di essere qui con la scrittrice Teresa Giulietti che questa mattina ha presentato qui a Bore il suo libro che è Parma, meravigliosa. Signora, lei come mai ha scelto di venire a Bore a presentare questo libro? Allora, il motivo è molto semplice. Io conosco Bore, è il paese di origine della mia mamma. Molto spesso sono venuta in vacanza a Bore durante le vacanze estive, durante i fine settimana perché poco distante da qua, scesa la vallata, c'è la casa dei miei nonni e dei miei bisnonni. Per cui sono delle terre a cui io sono molto legata e avendo parlato delle meraviglie e delle bellezze della città di Parma ho voluto dedicare un capitolo anche alle bellezze soprattutto naturalistiche di queste vallate. Quindi il suo libro, Parma meravigliosa, parla anche della Valceno? Ho dedicato un capitolo alla Valceno, ho dedicato uno spazio alle tradizioni della mia famiglia, ho ricordato i nonni, le cose che la cultura contadina mi ha insegnato e che per me sono stati dei valori inestimabili che mi sono portata avanti anche nella mia vita di donna e di scrittrice. Il libro verte soprattutto su dei racconti suddivisi in capitoli, molto spesso sono personaggi presi dai miti e dalla storia di Parma e della provincia di Parma alcune volte sono creati dalla fantasia e ho cercato attraverso questi racconti di spiegare a chi non conosce Parma e la provincia di Parma quelle che sono le nostre bellezze e le nostre tradizioni. Certo, nel suo libro mi pare di aver capito quando ha fatto la presentazione che parla anche di musica però. Sì, la musica è un po' il filo conduttore di tutto il libro e sostengono, sono stata io la prima a dirlo, bensì Dostoyevsky, che la bellezza salverà il mondo e tra la bellezza metto anche la musica e racconto di come la tradizione di sonorizzare attraverso la musica, il canto e la bellezza la città abbia delle origini molto molto antiche che non discendono dall'Ottocento bensì dai farnesi. E questa musica, questa tradizione musicale che non riguardava soltanto la classe ambiente, i privilegiati nella città ma che poi si è allargata a macchia d'olio a tutto il popolo parmigiano è ancora oggi secondo me il punto sul quale la cultura parmigiana e non soltanto parmigiana ma anche della provincia dovrebbe lavorare. Senta, la sua passione per la scrittura, da che cosa è nata? Allora, io scrivevo da quando ero bambina. Mi ricordo che la mia nonna, io ho avuto due nonne molto importanti nella mia formazione da una parte la nonna contadina alla quale in parte ho dedicato questo libro dall'altra parte una nonna maestra che mi ha insegnato la passione per la lettura e per la scrittura credo che sia una predisposizione naturale che io poi ho coltivato studiando anche lettere alla facoltà e poi inventandomi questo lavoro che è la scrittura su commissioni in verità non ho inventato nulla, non ho fatto altro che riprendere una tradizione che era già in auge in tempi molto addietro e quindi io ho dei committenti che mi commissionano dei lavori, in questo caso è stata una casa editrice. Senta, però questo non è il suo primo libro che lei scrive, vero? Ne ho scritti veramente tanti, alcuni usciti per casa editrice, alcuni che non usciranno mai perché nel momento in cui io faccio firmare un contratto ad un committente sconosciuto lui si prende il suo libro che solitamente serve per raccogliere i ricordi di famiglia e quindi questo libro è una memoria assolutamente individuale che non verrà mai data alle stampe perché sono tanti i libri, non li posso contare, nel senso sono veramente tantissimi Certo, la sua è proprio una passione e da come ho sentito nella conferenza lei ci ha messo proprio l'anima in questo libro Sì, ci ha impiegato, intanto la bellezza di nove mesi e come dico sempre ricorda un po' il senso della maternità, per chi scrive lo fa veramente con passione il libro è come un figlio e nel momento in cui poi questo figlio prende una forma assuma una forma cartacea senti questo distacco anche se sai che oramai non è più tuo e giustamente dovrà andare in giro a farsi conoscere e a dire quello che deve dire è una passione che forse è ancora di più che una passione è un'esigenza senza la quale non potrei probabilmente vivere Certamente, allora adesso però ci deve dire dov'è che troviamo questo libro che è sicuramente molto interessante Allora, lo troviamo in tutte le librerie non soltanto di Parma e provincia ma anche italiane io invito sempre i lettori ad andare in libreria a scegliere un libro e se possibile non a ordinarlo via internet però lo si può ordinare anche via internet io tra l'altro ci tengo a dire che in questo periodo sto entrando molto nelle scuole nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori e sta avendo un buon riscontro tra gli insegnanti e tra gli allievi Questo è molto importante perché siamo in un mondo che la cultura tende un po' ad andare indietro ed è questo importantissimo perché oltre alla bellezza della Valceno lei ha messo delle cose molto belle nel suo libro Ho raccontato della moda parmigiana di come ci sia sempre stata un'attenzione per il dettaglio che purtroppo si è perso perché moda non è soltanto superficialità ma è ricerca, è artigianalità e anche arte ho raccontato dei burattini dei Ferrari dai quali mi portava sempre mio padre quando eravamo bambine io e mia sorella ho raccontato di Maria Luigia, di Giuseppe Verdi, della musica ed ho dedicato questo libro principalmente ai giovani cosiddetti della generazione Z sostenendo che sostanzialmente per difendere la bellezza bisogna prima conoscerla È stato molto bello quell'intermezzo che lei ha fatto come esempio quando era bambina che passava in ghiaia sotto il ponte romano e che lei praticamente ha trovato un amico immaginario, un bambino romano Io ne ho avuti molti nella mia vita di amici immaginari, soprattutto da bambina quando io scendevo nella Roma antica attraverso questo sottopasso immaginavo di poter incontrare un piccolo romano un discendente dell'imperatore romano e con il quale io mi inventavo dei dialoghi immaginari lui insegnava a me il romano, io insegnava a lui la grammatica italiana è un po' il libro tutto costruito su questo stile dove si fonde la realtà, la ricerca storica all'immaginazione Benissimo, grazie, la ringraziamo per questa intervista e le auguriamo buon lavoro Grazie, grazie a tutti, arrivederci